Era il 20 dicembre del 2017 quando Ilenia perse il papà. L'assistente capo della polizia stradale di Guardamilio Giuseppe Beolchi perse infatti la vita in un tragico incidente stradale mentre viaggiava sull'auto di servizio che si scontrò contro un camion in A1. La scomparsa del poliziotto colpì la comunità piacentina. L'uomo infatti aveva lavorato per molti anni alla costura di Piacenza. Martedì scorso la figlia di soli dieci anni, Ilenia Lucia, ha ricevuto a Roma in occasione dell'annuale festa della polizia una medaglia d'oro in onore del padre scomparso mentre stava compiendo il proprio dovere. Ad appuntargliela la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso di un momento molto toccante. Ci siamo ovviamente commosse nel ricordare Giuseppe ha spiegato la vedova Rosanna Marchesi. Quando sei lì capisci che sei lì per onorare tuo marito per quello che ha fatto, come l'ha fatto, per l'amore che ha dato comunque a tutti e questo riconoscimento è stato molto importante. È stato importante soprattutto per la bambina. La piccola Ilenia sembra già avere le idee chiare sul proprio futuro. Ha confidato alla mamma che la appoggerà di voler fare la poliziotta. La bambina è molto fiera di avere quella medaglia che porta, che se la bacia, che se la coccola e l'ha resa molto forte perché è determinata a portare avanti quello che il papà ha fatto. Intanto a quattro mesi da quella tragedia, mamma e piccola non sono mai state lasciate sole da amici, parenti e colleghi di Beolchi. Io devo ringraziare veramente tutti i colleghi, tutti, indifferentemente dall'uno o dall'altro, chi possa essere, i colleghi dove lavorava lui, della sezione di Guardamiglio, Piacenza, Lodi e tanti altri che comunque anche su Facebook mi mandano messaggi da vicinanza. Fa molto piacere questa cosa perché ti fa capire che non sei abbandonata te stessa, che se qualsiasi cosa puoi avere bisogno, loro ci sono.